Io tra i collaboratori della mia rivista, per dirvi come ci si occupa della comunicazione in un posto vicino che è la Svizzera, tra i collaboratori della mia rivista c'ho un docente all'università di Zurigo che è Marco Morosini, che qualche tempo fa ha avuto occasione di fare un intervento a Roma, dopo che sono stato a questo convegno, era sui modelli economici e finanziari legati alle rinnovabili, lui ha fatto un intervento estremamente brillante che io ho guardato e ho detto, caspita, dopodiché siamo andati a cena assieme perché è un collaboratore della mia rivista e mi ha detto, guarda io adesso ho da fare perché ho filmato il mio intervento e devo spedirlo alla mia coach della comunicazione in Svizzera e dopodiché domani mattina però ho da fare perché alle otto e mezza dobbiamo discutere del mio intervento sulla comunicazione eccetera eccetera e io gli ho detto, caspita ti pagano bene in Svizzera, ti puoi permettere una coach personale sulla comunicazione? Ma stai scherzando? È la coach dell'università sulla comunicazione, perché il nostro preside, il rettore dell'università per migliorare la comunicazione esterna e la comunicazione verso gli studenti paga una coach a cui noi ci dobbiamo sottoporre per forza ogni volta che facciamo un intervento a nome della nostra università e mi ha detto, sai io devo mandargli, faccio la ripresa con la mia telecamerina, dopodiché gliela spedisco la notte, la mattina dopo a botta calda, cioè non qualche settimana dopo, dobbiamo discutere, lei mi dice quali sono le cose da migliorare, le cose da non migliorare, le cose che invece sono da cambiare eccetera eccetera rispetto ai miei 20. Io su un livello così accurato, questa era un'istituzione, un'università che si rende conto diciamo di quanto sia importante la comunicazione, d'accordo, all'esterno ma anche nella didattica rivolta verso gli studenti, d'accordo, per cui voglio dire lì il problema della comunicazione barra informazione è estremamente pervasivo, d'accordo, per questo io dico che probabilmente passata lo tsunami che ci sta investendo come categoria, probabilmente chi gestisce la comunicazione dell'informazione, se saprà trovare delle vie nuove avrà di fronte, non dico un futuro radioso, va bene, però avrà di fronte un buon futuro, perché voglio dire non è diminuita l'esigenza di comunicazione e informazione, sta cambiando e per quanto mi riguarda sia a livello mondiale e che specialmente a livello italiano non riusciamo a stare appresso a queste, che è un cambiamento sostanzialmente, una cosa per tutti, d'accordo, io sono 4-5 anni che sto pensando a nuovi modelli di business e sapete dove mi areno? Mi areno sul fatto che non conosco il mio target, non so chi sono i miei lettori, d'accordo, qualcuno di voi sa per chi scrive, ma in maniera analitica, cioè voglio dire sono giovani, donne, a che ispirazioni hanno, che cosa gli interessa, cosa non gli interessa, eccetera, eccetera. No, quando scriviamo, scriviamo per delle indicazioni di un editore che a sua volta non sa chi sono i lettori nello specifico, per cui in realtà non sappiamo se gli proponiamo delle notizie utili, perché la gente oggi legge, si informa, assorbe comunicazione, se ne trova l'utilità sostanzialmente. Se qualcuno di voi ha l'abbonamento a Netflix, d'accordo, si può rendere conto come Netflix stia entrando nel campo dei documentari, ma persino dei documentari ambientali, autoprodotti da Netflix stessa, c'è una splendida serie, per cui documentari in serie, d'accordo, che sono sui problemi alimentari, su Netflix, ed ha prodotto Netflix, e quella è informazione, d'accordo, che finisce su piattaforme diverse, che ha forme diverse, cioè ha la forma della serie di House of Cards, che francamente io non riuscivo a immaginare prima di vederla, e sono rimasto francamente stupito sotto questo profilo. Bene, io mi taccio, perché poi i miei amici poi mi dicono che sono logorroico, in effetti sono logorroico, e a questo punto passo la parola a Giovanni Corbetta, Giovanni Corbetta è il direttore di Ecopneus, Ecopneus è un consorzio che si occupa del riciclo dei pneumatici, per cui se avete un'automobile avete a che fare con Ecopneus, perché si occupa praticamente dei vostri pneumatici usati affinché non vengano smaltiti in maniera corretta ed efficiente soprattutto. E qui si apre un altro problema, per esempio, che io sto affrontando in questo periodo. Io mi occupo da due o tre anni di economia circolare, allora l'economia circolare è fatta bene, è fatta perché io prendo un rifiuto per una filiera industriale, so che quel rifiuto, quella materia, quel rifiuto può diventare una materia prima seconda per un altro processo industriale, ecco lì che magari non l'industria che potrebbe utilizzare questo rifiuto che diventa materia prima, non conosce che il suo vicino magari la produce, ok? Per cui ci sono delle diseconomie da questo punto di vista, perché voglio dire se un rifiuto va smaltito ed è un costo, mentre invece un rifiuto che diventa una materia prima e seconda non va smaltito, ma acquista valore in quanto dignità, valore economico, prima economico e poi anche e soprattutto ambientale, però manca sempre il tassello, cioè l'unione tra le filiere industriali, che è una cosa più complicata di quanto non si possa pensare, perché sulle filiere industriali noi abbiamo un problema di segretezza industriale, non è che gli industriali investono un sacco di soldi sui propri processi industriali, eccetera eccetera, e compagnia cantante, e poi dicono, e vabbè lo metto a disposizione alla comunità perché così facciamo economia circolare, no, non funziona propriamente così, è ben più complicato, d'accordo, questo aspetto dell'informazione. Allora, prego Corbetta, ci spieghi che cosa fa e poi come in questo quadro nell'economia circolare diciamo, sì, l'informazione può avere un ruolo e che ruolo. Buon pomeriggio a tutti e penso che sia opportuno fare qualche premessa, innanzitutto non sono giornalista, sono uscito dal liceo sempre col 5,5 in italiano nei temi, quindi l'ultima cosa a cui avrei pensato era di continuare in un mondo di comunicazione per cui, insomma, certamente ho vissuto in un mondo differente da quello che mi sembra aver capito il vostro, ho fatto ingegneria e seconda cosa che forse è opportuno dire, io ho lavorato 30 anni in Pirelli, lo dico perché lavorare in una multinazionale di questo tipo certamente condiziona molto quello che un manager impara in 30 anni di lavoro perché pur facendo attività di vario tipo, comunque l'azienda, in particolare Pirelli, sapete che sulla comunicazione ad esempio ha sempre insistito molto e quindi molto probabilmente anche quando poi ho lasciato Pirelli il condizionamento è rimasto. Ho lasciato Pirelli per iniziare a occuparmi per conto di Pirelli comunque del pneumatico a fine vita, quindi c'è un anello di congiunzione, solo che adesso opero in una società che appunto si chiama Icopneus, che è una società per azioni di natura consortile, quindi è un anfibio per cui noi siamo un soggetto di diritto privato in cui valgono le regole delle società per azioni ma non possiamo dare dividendo all'azionista, quindi abbiamo un profilo un po' particolare anche perché per questi tipi di aziende la legislazione nazionale prevede un concetto di interesse nazionale, interesse pubblico e quindi c'è forse qualche anche complicazione in più nel gestire un qualcosa che in parte è privato e deve comunque rendere conto di tanti risultati e dall'altra parte tra i risultati non c'è il dividendo e ci sono altre cose. Allora io ho iniziato a lavorare proprio in Pirelli che non c'era ancora il fax, per un paio d'anni il fax non c'era nel 75, nel 75 pur lavorando in una multinazionale il fax non c'era e quando è arrivato pochi mesi dopo la mia assunzione era un fax che se non si fotocopiava il messaggio arrivato entro mezz'ora su carta normale spariva tutto perché era su carta termica quindi c'era circa mezz'ora di tempo per prenderlo dalla macchina del fax, fotocopiarlo e finalmente averlo in maniera permanente. Quindi potete immaginare come funziona un'azienda che per comunicare ad altri ha come massimo strumento moderno appunto un fax di questo tipo, ovviamente senza possibilità di attaccare allegati quindi se ci fossero degli allegati corposi diventava un disastro e quindi anche come poi tutto si organizza all'interno di un'azienda perché se il messaggio mi arriva in quel modo e rimane fermo due giorni su una scrivania non succede nulla, cioè i tempi medi di risposta erano di giornate, ci si preoccupava quando si superavano le settimane. Questo perché parlando di come si comunica oggi è chiaro che io oggi sostengo che non rispondere a una mail seppur magari in maniera provvisoria entro pochi minuti già lascia un amaro in bocca a chi sta aspettando la risposta. Allora, una considerazione, le mie considerazioni sono considerazioni quindi da manager, non sono considerazioni da specialista quali siete voi. Intanto io sono convinto oggi che chi non comunica è perché sta nascondendo qualcosa cioè se un'azienda, un soggetto, che comunque in qualche modo dovrebbe comunicare, comunica poco, comunica male e perché ha delle cose da nascondere. Io che oggi mi occupo di rifiuti sono ipersensibile a questo aspetto perché sapete che il mondo dei rifiuti è un mondo che nell'immaginario collettivo e forse anche nella realtà è molto pervaso da situazioni irregolari di varia natura. Non è solo il fatto degli inquinamenti, è il fatto degli incendi sono tante cose di irregolarità che contornano questo mondo. E proprio anche stamattina in un altro convegno si diceva ma come si fa a combattere questo? Cioè come si fa a fare in modo che la gente capisca che ci sono casi irregolari ma ci sono anche casi buoni? Secondo me uno dei modi per combattere è proprio la comunicazione trasparente. Cioè una comunicazione che però è trasparente perché è già quella all'origine che viene messa a disposizione. Cioè il mio dato, metto a disposizione il mio dato, non lo sto a rielaborare. Se io riesco a mettere a disposizione di tutti coloro che sono interessati in quel che facciamo esattamente i nostri informazioni, i nostri dati, i nostri numeri, i nostri dettagli, beh senza passare attraverso mediazioni, trasformazioni eccetera probabilmente comincio a guadagnare in incredibilità. Questo vuol dire ovviamente saper scegliere bene all'interno nostro cosa rendere pubblico, come renderlo pubblico. Però ecco io vorrei cominciare a creare un collegamento tra il fatto che non comunicare o comunicare male potrebbe non essere casuale, potrebbe essere voluto, potrebbe essere un modo per occultare alcune cose. Seconda considerazione che mi viene in mente anche ascoltando quello che avete detto prima. Oggi chi non sa e perché non vuole sapere. Quando io ho iniziato a lavorare, ricevere sul proprio tavolo, sulla propria schiavania, alcune delle riviste che giravano in azienda era quasi un privilegio. Cioè essere inseriti a un certo punto di carriera, uno veniva inserito in una lista di circolazione delle riviste che arrivavano abbonati o gratuiti in azienda, del settore, riviste informative, il Sole 24 Ore, le classici riviste o quotidiane per un'azienda. Oggi farebbe ridere immaginare che è un privilegio ricevere o non ricevere le informazioni, perché ovviamente chiunque può andare a chiedere qualunque cosa, dovunque vuole, tramite internet. Allora anche qui non è solo il fatto di avere l'informazione molto più in fretta e molto più precisa e sperabilmente molto più alla fonte, ma anche di poterla avere tutti e di poterne disporre in tutti i modi. Quindi oggi chi, come dire, ogni tanto io mi sento dire ma chi me l'ha detto, chi me l'ha fatto sapere, dove l'ho letto? Beh, oggi uno che vuole sapere mette quattro parole in croce in Google e gli si apre un mondo infinito. Un'altra cosa che mi sembra valga la pena considerare è quello che ovviamente questa abbondanza di informazioni richiede una capacità di selezione, una capacità di non perdersi, una capacità di arrivare abbastanza al focus di proprio interesse e a quel punto di riuscire a collegare i vari spezzoni di informazione, perché se io ho accesso alle informazioni ma poi non le collego bene, ovviamente faccio un pasticcio. E quindi mi sembra che oggi sia necessaria disporre di una attitudine o di una capacità di prendere i vari pezzi, collegarli bene e quindi un fatto di analisi prima ma di capacità anche di sintesi poi, perché altrimenti ci si disperde, non se ne viene a capo insomma in qualche modo. Quindi, come dire, quello che succedeva 30 anni fa e quello che succede oggi mi sembra quasi che si è girato il mondo, nel senso che quello che si faceva o si doveva fare o si doveva lottare per fare allora, oggi si è rovesciato. Non è forse più facile o più difficile, ma è profondamente differente. Altra cosa che volevo citare è che l'informazione oggi, essendo accessibile, tende a non essere più un fatto di potere. Nelle aziende di un bel po' di anni fa, siccome pochi riuscivano ad avere le informazioni, era proprio uno strumento di potere, era uno strumento che permetteva di dire all'interno di un'organizzazione chi sa e chi non sa. Oggi non può più costruirsi una situazione su questo aspetto, perché chiunque sappia leggere e scrivere sa, perché l'informazione è lì. Allora, ci sono veramente, secondo me, tanti cambiamenti che possono probabilmente richiedere differenti discipline, differenti accumuli di esperienza per poter dare un contributo ai colleghi, per dare un contributo al cittadino, per dare un contributo a chi è interessato. Altra considerazione che vi sono segnato ascoltando prima voi. Noi oggi riteniamo, forse merita che dica due parole, noi oggi siamo per legge in dovere di raccogliere in tutta Italia i pneumatici che sono stati sostituiti su un veicolo, quindi sono diventati un rifiuto, e portarli tutti a un corretto trattamento ambientale. Potrebbe sembrare una cosa banale, in realtà dobbiamo inseguire circa 30.000 gommisti in giro per l'Italia che producono più di 1.000 tonnellate al giorno lavorativo. Quindi voi immaginate che noi ogni giorno in giro per l'Italia abbiamo camion che la percorrono in lungo e in largo e che ogni giorno raccolgono 1.000-1.100 tonnellate che poi dobbiamo trattare in impianti idonei. Quindi è una sfida abbastanza interessante. Bene, chi è il nostro committente? È vero, noi siamo una società costituita come azionisti dei produttori di pneumatici, perché sono loro che per legge hanno l'obbligo di costituire questa organizzazione. Ma il nostro vero datore di lavoro è il cittadino, perché noi viviamo solo e soltanto per il fatto che chi compra un pneumatico paga un piccolo contributo e con il piccolo contributo noi dobbiamo garantire il trattamento di quel pneumatico. Quindi è solo per il fatto che c'è qualcuno che compra un pneumatico e paga il contributo che noi riceviamo i soldi per poter operare. Quindi abbiamo un enorme, quasi tutti i cittadini hanno dallo scooter alla bicicletta al veicolo, eccetera. Quindi abbiamo, vorrei dire, 60 milioni di persone che ci guardano. Poi abbiamo le categorie più interessate, abbiamo i ricercatori che stanno studiando tecnologie per lavorare meglio il pneumatico, abbiamo quindi professori universitari, abbiamo l'Enea, abbiamo magistrati che ci guardano, forze dell'ordine, altre aziende che possono essere coinvolte. Quindi c'è una pletora veramente ampia per cui con la scelta di comunicazione che noi utilizziamo abbiamo proprio creato un cerchio di tutti i possibili soggetti da contattare, quindi i cluster di soggetti, lo studente, l'insegnante, il ricercatore, il cittadino e per ciascun cluster finale da raggiungere qual è lo strumento. Perché è chiaro che per alcuni settori e per trasmettere alcune informazioni e comunicazioni può essere il convegno, in altri casi può essere l'articolo scientifico, in altri casi è un sito web, lo potete vedere il nostro è www.ecopreneurs.it, possono essere Facebook, possono essere Twitter. Quindi abbiamo preso tutto il possibile ventaglio di strumenti e lo utilizziamo in base a due parametri, chi dobbiamo colpire e che cose gli dobbiamo raccontare. Quindi anche questo punto è un punto su cui secondo me cose che non si facevano una volta, adesso bisogna farle. Ma l'ultima cosa, prima si parlava del fotografo di Londra, noi siamo andati a prendere un giorno un fotografo addirittura che aveva vinto un premio a New York, perché effettivamente in quel caso noi volevamo dare ad argomenti come i nostri che sono un po', alla fine insomma partiamo da rifiuti e siamo classificati nell'industria del rifiuto. E quindi abbiamo sentito in qualche occasione anche il bisogno di utilizzare nel comunicare agli altri che dentro questo rifiuto ci può essere anche qualcosa di bello, che nel caso particolare sono anche le materie prime e seconde che noi ricaviamo dal trattamento del pneumatico. E allora ad esempio delle belle foto fatte da un fotografo, non dal fotografo tecnico che dal pneumatico, ma da un fotografo artista che nel far la foto in qualche modo è andato ben oltre il puro fatto fotografico, ci è stato strumentale per poter aprire in quel momento un dibattito sul fatto che anche questo oggetto ha un qualcosa diciamo di buono da rappresentare. Quindi ecco, comunicazione molto molto ampia, molto molto sostituito, io spessissimo dico al mio interno che se facciamo qualcosa e non lo comunichiamo potremmo anche far meno di farlo, perché non essendo un'azienda di prodotto, un'azienda di prodotto fa il bicchiere, se il bicchiere non si rompe come i sacchetti di plastica di cui si parlava prima, va bene, funziona, mi va bene, ma noi che non abbiamo un prodotto, non abbiamo un vero e proprio servizio, dobbiamo rendere un servizio così ampio così generale, dobbiamo essere sicuri che tutti quelli che vogliono saperlo e vogliono in qualche modo verificarne l'effettuazione, lo sappiano da noi in maniera diretta, veloce, possibilmente non mediata, certamente ben preparato in modo tale che la lettura dell'informazione sia facilitata ma non deformata e quindi arrivi e sia ben comprensibile. Questo diventa anche un modo per sottoporci a un controllo secondo me generale generico che laddove noi, laddove si utilizzano soldi altrui, perché alla fine noi i soldi non ci li guadagniamo, noi il quid che riceviamo il cittadino lo paga per legge, quindi come dire potremmo trovare una facile modalità di vivere, i soldi ci arrivano, il cittadino lo deve pagare per forza e quindi non dobbiamo, cioè potremmo immaginare di non dover rendere conto al cittadino, invece questo per noi è una delle priorità e per rendere conto al cittadino ecco che la comunicazione è più che indispensabile, visto il fatto che siamo uno verso 60 milioni. Sì, certamente. Allora, il sogno che tutti noi abbiamo, e ne ho avuto occasione di parlare spesse volte con gli scienziati dell'Enea, è di riuscire. Allora, qui devo fare purtroppo un paio di informazioni molto specifiche. Quando si lavora la gomma per poter fare un oggetto, anche un pneumatico, ma qualunque altro oggetto, a un certo punto si deve passare attraverso una fase che si chiama divulcanizzazione, che è un processo chimico-fisico che altera per sempre le molecole di gomma. Quindi dopo quel momento la gomma è diversa, era gomma prima e gomma dopo, ma è una gomma diversa, che non si riesce più a rilavorare. E questo è un fatto tecnologico che, essendo irreversibile, sta impedendo di tornare con facilità da un pneumatico a fine vita a produrre nuova gomma per farne un altro. Mentre la lattina della Coca-Cola la si fonde e la si riutilizza, la carta la si macera e la si riutilizza, il legno, lo citruccio la si riutilizza, purtroppo la gomma nel pneumatico, almeno per ora, non torno, io conto molto sull'Enea che un bel giorno mi dicano che hanno risolto il problema, ma perché lavoriamo con il dottor Morabito dell'Enea. Nel frattempo cosa si fa? Tendenzialmente lo si frantuma, si frantuma il pneumatico, lo si frantuma in particelle molto piccole, un paio di millimetri. In questo modo si riesce a separare la parte gomma dalla parte metallo e dalla parte tessile. Se voi poteste tagliare a metà un pneumatico trovereste dentro oltre tanta gomma dei fili di metallo e dei fili tessili che servono per dare robustezza meccanica. Bene, arrivando a una frantumazione molto piccola e con delle vagliature si separano gomma, tessile e metallo, l'acciaio se ne torna subito in acciaieria perché è più facile da ritrattare. Tessile purtroppo non ho ancora trovato grandi sbocchi, però ha un elevato potere calorifico e quindi va nei cementifici come combustibile alternativo e la parte gommosa invece che è la preponderante, tra l'altro viene utilizzata laddove serve della gomma ma diciamo senza una necessità di un forte riagglomeramento. Ad esempio viene usata nei campi di calcio ad erba artificiale per tenere i fili di erba verticali e dare elasticità al terreno. Viene usata per fare le piste di atletica, pavimenti di palestra, viene usata nei muri come insonorizzante, viene usata come impermeabilizzante nei sottotetti, viene utilizzata come incollando questi granuli con un po' di mastice per fare supporti antivibranti. Quindi c'è un ventaglio molto ampio che trova, che può vedere nel nostro sito perché abbiamo un catalogo di tutti i possibili prodotti che aziende italiane fanno, rilavorando il granulo di gomma derivata dal termine di vita. È un catalogo che noi ospitiamo, noi siamo senza fini di lucro quindi da lì non traiamo nessun vantaggio ma lo facciamo a supporto della filiera che sta a nostra valle. Le collesuali della Vibram fanno delle borse bellissime, tra l'altro Vibram è nato nel laboratorio di Pirelli per cui tutto torna, le storie che dicevamo prima ci sono in pieno, poco costosette le borse, però sono belle. Anche perché nella provincia di Varese sono nate molte industrie per lavorare la gomma e quindi c'è un connubio forte tra provincia di Varese e gomma.